Non ho seguito la vicenda interna sul diritto o meno, il problema è stato sollevato dal Financial Times, vicenda che è stata la violazione dei diritti, poi la discussione in Italia è così. Non è un problema per il Partito Democratico, ma per tutti, credo, anzi, forse è un problema minore per il Partito Democratico, per per altri. Afghanistan è un paese a forte elemento autoritario che sta evolvendo e come strumenti sta evolvendo lentamente e il problema sarà proprio la successione che dovrà esserci prima o poi da parte di Donald Biden come sempre difficile la soluzione da tutti questi paesi che sono usciti dalla Unione Sovietica. Quindi è un paese ex-sovietico in cui il leader è rimasto il leader di allora, il paese si è articolato e si va complicando dal punto di vista economico, quindi nascono nuove forze, nuove strutture, anche nuovi protagonisti, ma è un cammino molto lento verso il cambiamento. riguardo alla... Ecco, ma scusi, ma di violazione dei diritti umani si può parlare o è prematuro o è sbagliato? Violazione dei diritti umani? Ci è stato detto questo? Secondo lei, da osservatore, ci può essere stato un caso di violazione dei diritti umani di cui noi... Ho detto, il Financial Times l'ha sollevato come violazione dei diritti umani e poi il caso in Italia mi sembra... Adesso lei vuole fare il furbetto, no? No, il Financial Times sono inglesi. Vuole fare il furbetto e allora... No, la domanda... Quando io facevo il furbino con mia madre, mia madre mi diceva, tu sei nero ma io ti pingo. No, ma la domanda era proprio per evitare strumentalizzazioni di altri. Volevo il suo parere, perché il Financial Times lo troviamo in edicola, volevamo il suo parere, visto che lo conosco. è tutto il tutto e tutto.